Ebbene sì, non è un errore, questa qui è l'asta boom che molti di voi conoscono e vedono spesso e volentieri nei film, in quelle che sono praticamente le ambientazioni dove c'è il fonico, dove c'è la possibilità di avere un fonico che cattura l'audio. Chiaramente l'asta e il microfono si fa in modo che non entri in campo, quindi nell'inquadratura in questo modo, ecco vedete in questo modo chiaramente sarebbe nascosta, così invece la vediamo nella totalità. E non è stata da parte nostra una svista, ma questo video, come ben avrete visto dal titolo del video stesso, parlerà di audio, di come catturarlo, di come utilizzarlo al meglio, di come editarlo al meglio. Vi facciamo subito sentire che questo è l'audio di di questa sala. Uno, due, tre, prova! Sentite? Siamo all'interno di uno studio, di una sala pose, all'interno di una sala pose le pareti sono, l'ambiente è molto grande e intanto ritorniamo all'audio normale. Ok, ecco in questo momento siamo ritornati con un audio sicuramente più genuino, più chiuso, più diretto e questo ce la dice lunga, cioè su quanto è importante ascoltare un audio di qualità rispetto a sentire un audio non proprio lodevole. L'audio è fondamentale, lo diciamo sempre, almeno il 50 per cento dei nostri video e questo è il motivo per cui non lo dobbiamo trattare con i guanti, lo dobbiamo catturare bene al meglio e poi sapere editare. Spesso viene dimenticato? O dimenticato oppure sottovalutato, dicevamo ma tanto, no? No, questo è da assolutamente cercare di allontanare come metodo di lavoro ed è il motivo per cui siamo qui oggi. Vi ricordiamo che gran parte di queste cose sono anche parte dei corsi di formazione e in particolare video recording è il corso in cui si parla anche di audio. All'interno di video recording ma anche oggi qui andiamo a vedere quindi come prima cosa dividiamo questo video in due blocchi fondamentali che sono la parte di acquisizione dell'audio e quindi capiamo quali sono i principi che regolano una buona riuscita del segnale in termini di cattura e poi la post produzione che vedremo un po' più a fondo che se vogliamo tra le altre cose è un po' una novità perché vedremo come editare in post produzione con Da Vinci Resolve e con Final Cut al meglio la forma dell'onda dell'audio. È uscito da poco tempo grazie a quello che è il principio dell'intelligenza artificiale che viene adesso adottata anche dai software di editing video e anche audio e si sono uscite delle funzionalità che permettono di riuscire a captare a catturare al meglio il suono e andarlo a confezionare a mezzo veramente di un semplice edit. Lo vedremo sono tre quattro cosine soprattutto in Final Cut è ancora più semplificata la cosa. Molto semplice infatti. Molto semplice. Quindi da prima parlerei Stefano se siete d'accordo di quelle che sono le quattro regole anzi diciamo subito che queste le potete andare a rivedere anche nel video che ho fatto un po' di tempo fa che si chiama registrare audio come riprenderlo quattro regole fondamentali ve lo lasciamo comunque in descrizione è un riassunto di quello che diremo oggi anzi forse un approfondimento anche se oggi lo ripetiamo un po' diciamo da zero e a proposito di come diciamo pure con che cosa stiamo catturando. Eccolo qui abbiamo un bel microfono shotgun il Synco D2 che poi Simone ha già presentato in altri video e vi lasceremo la descrizione qui sotto. Sì in particolare il video ve lo diciamo subito si chiama Synco appunto Mic D2 riprendere con audio e approccio cinema proprio perché questo è un microfono che può essere utilizzato in quel mondo lì. Detto questo Stefano io ti chiederei di riassumere ai nostri amici quale sono le quattro regole fondamentali e le facciamo anche ascoltare quindi i risultati cioè quello che stiamo dicendo lo dimostriamo quale sono le quattro regole fondamentali per una cattura di audio di qualità e ripeto fermo restando che poi lo miglioreremo perché abbiamo visto che possiamo arrivare fino a un certo punto. La prima regola che ti viene in mente. Ok tu mi porti a parlare delle sacre scritture dell'audio secondo il Vangelo e Promirisiliano. Il primo aspetto a cui bisogna fare attenzione è la distanza tra il soggetto che parla tra la fonte audio e il punto di ripresa del microfono stesso. Ovviamente aumentando la distanza il suono tenderà a decadere e quindi il microfono per quanto sia sensibile avrà i suoi problemi. Avvicinandoci troppo al contrario rischieremo di mandarlo in saturazione se non regoliamo opportunamente i livelli. La distanza è fondamentale. Pensate che tutto quello che subisce un microfono lo subiamo noi con le nostre orecchie. Noi forse con la perfezione che Dio ha dato al nostro corpo riusciamo a essere ancora più affini e a elaborare le informazioni ma fondamentalmente se io a Stefano parlo a un centino dall'orecchio lui sentirà ogni sibillio, ogni piccola sfumatura della mia voce. Viceversa se io mi allontano tantissimo se io mi faccio... lui non lo sentirà. è chiaro no? E quindi è fondamentalmente la stessa cosa la potete pensare per il microfono. Con la cosa che se io vado all'orecchio di Stefano e strillo sull'orecchio di Stefano Stefano si allontana e dice ha distorzo. Cioè è un fastidio, diventa una distorsione e così per il microfono in quel momento riceverà un segnale troppo alto e quindi non sarà in grado di poi catturare in maniera corretta il suono. Quindi lo facciamo vedere, è un piccolo esempio. Come no? Certo. Effettuiamo il test numero uno che è il concetto di distanza. Adesso io parlo, mi sto allontanando mantenendo il tono di voce alla stessa maniera. Ecco sono arrivato fino a qui, stiamo circa due metri, adesso mi avvicinerò di nuovo. Ecco sono qui, sto arrivando, eccomi, sono in prossimità del microfono, ora mi fermo. Come avete potuto notare, mentre effettuavo il test non solo è cambiato il volume della mia voce ma anche il disturbo dell'ambiente. Eccoci di ritorno. Beh, avete potuto vedere che man mano che ci allontaniamo, che cosa succede? Che il suono si riflette ulteriormente. Quindi ad aggravare una minor percezione del suono c'è anche una maggiore riflessione dello stesso. Cioè più ci allontaniamo, più l'ambiente tende ad amplificare e a riprendere il microfono. Il microfono riprenderà anche più l'ambiente piuttosto che il suono diretto. Cresce l'influenza dell'ambiente. Cresce l'influenza dell'ambiente. Quindi noi più ci avviciniamo ad un microfono e più il suono sarà diretto. Più ci allontaniamo e più sarà l'ambiente che dobbiamo cercare di evitare. Quello che volgarmente viene chiamato eco, che poi non so perché tutti lo chiamano eco, ma in realtà è al limite il riverbero. L'eco è la ripetizione, invece il riverbero è la divulgazione del suono, è l'allungamento del suono. Primo aspetto diciamo che l'abbiamo chiarito. Avvicinatevi il più possibile alla persona che dovete riprendere. Non meno importante direi che è la direzione. Bravissimo. Ogni microfono ha delle caratteristiche peculiari di lobo di radiamento che lo rendono più o meno direttivo. E più o meno sensibile a quello che è la direzione del suono. Allora ovviamente la situazione in Italia dovresti puntare il microfono nella direzione del soggetto che sta parlando. Ovviamente il microfono capterà anche dai lati, ma anche posteriormente direi. Sì, quello lo diciamo dopo dipende anche dal tipo di microfono. Ma in tutti i casi quello che sta affermando giustamente Stefano è se noi un microfono, ed è abbastanza plausibile, noi quando ci vogliamo ascoltare meglio e non lo sentiamo bene magari un qualcuno che ci sta parlando, facciamo così, lo fanno anche i cani, direzionano le loro orecchie verso la fonte sonora. Ecco, qui pensiamo al contrario, cioè il microfono è che si direziona appunto verso quella fonte sonora. Ed è il motivo, è presto detto, è chiaro che la capsula se è rivolta verso il soggetto che parla avrà più facilità di ascoltare piuttosto che direzionare in un altro punto rispetto alla fonte, da dove viene il suono. Ok? Ok. Facciamo un esempio anche di questo, soprattutto in questo caso, che il microfono è un microfono molto direzionale, è in grado di guardare molto lontano. E quindi vediamolo. Test numero due. Adesso analizzeremo il concetto di direzione. Questa è la posizione centrale, la migliore. Io mi muovo, ecco, sentite, come varia il tono di voce. Ma io sto parlando sempre alla stessa maniera, lo sto accambiando. Ora sono nella situazione peggiore. Adesso mi muovo, vado, ritorno nella posizione iniziale, ed ora vado da quest'altra parte. Come potete ascoltare, il tono della voce cambia, non devono niente. Anche in questo caso, come avete potuto notare, non solo abbiamo una variazione di volume mentre io mi muovevo, ma anche un'influenza maggiore dell'ambiente. Va bene, Stefano. Direi terzo aspetto. Terzo aspetto è l'ambiente. L'ambiente è molto importante. A meno che non ci troviamo in una camera anecoica, perfetta, precisa, dove il suono viaggia nel migliore delle situazioni. Purtroppo l'ambiente esterno influenza tantissimo la diffusione del suono. Lo influenza non solo nella caratteristica di come si sente. Qui, per esempio, abbiamo purtroppo una cattiva qualità del suono. Molto riverbero. C'è molta ambientazione. Perché? Perché dipende dalle pareti che non sono assorbenti. E' un po' come se una parete è bianca o nera la luce si riflette di più o di meno. Cioè, su una parete nera non ci sarà riflessione, su una parete bianca la luce verrà completamente irradiata. E' un po' così è per l'audio. Solo che invece che i colori influenzano le forme delle pareti e i tessuti di cui sono i tessuti o comunque il materiale di cui è composta la parete. Sì, infatti il microfono non viene interessato solamente dal suono diretto che viene da, ma viene interessato anche da quelli che sono riflessi che poi possono avere più o meno dei ritardi e quindi tutto questo qui si va a sommare e abbiamo un deterioramento del suono. Del suono. Oltre che un'amplificazione dello stesso. Certamente. Perché la conformazione della stanza, oltre a cambiare e a riflettere il suono e quindi allungarlo, influisce anche nel volume. Non a caso gli ambienti, a seconda di come sono composti e della loro forma, vanno proprio a amplificare il suono. Pensate alla cassa della chitarra. Un suono può essere appunto messo in una condizione di essere divulgato proprio in funzione dell'ambiente in cui viene diffuso. Ok? Ed è fondamentalmente... Io penso che Stefano sono fissato e se non avessi fatto filmmaking, se non avessi dedicato la mia vita al video, avrei aperto un ristorante, ma piuttosto che fare buoni piatti, probabilmente avrei fatto un ambiente soft, dove le orecchie si riposano. Io non c'è cosa che odio di più di andare dentro un ristorante dove tu non riesci a parlare, ma non tanto perché le persone parlano fuori. E poi è arrivato, ci fai talmente l'abitudine a questo rimuore di fondo e ti perdi delle sfumature. A me succede che più l'ambiente è come questo e più devi alzare la voce. Più invece... Ci avete presente quando andiamo dal dottore dove tutti parlano piano? Ma perché? Perché dal dottore magari sono ambienti piccoli, magari diciamo non diffusi, il suono è trattato e allora tu parli tutto così, tutti parlano piano. Se invece ci sono ambienti dove ci sono rumori e cose, tutti parlano forte. Ecco, questo è l'effetto proprio di amplificazione dell'ambiente e più si va a trattare male l'ambiente e più noi parleremo forte, più ognuno cercherà di parlare più forte e questo la dice lunga su quanto stiamo dicendo. Ora, è inutile che vi facciamo un esempio di questa cosa qui perché basta che voi, con la vostra mente, vi rapportate a come si sente il suono quando andate in chiesa, ok? Pensate al suono che c'è in chiesa rispetto a quando state all'interno della vostra camera da letto per farvi capire dove c'è un letto con delle coperte che attenuano tantissimo i suoni, all'interno della stanza c'è molto mobiglio, ci sono varie cose che spezzano il suono, il suono non ha modo di riflettersi in maniera speculare tra una parete e l'altra, insomma tutto questo crea un ambiente asciutto. Diversamente da quanto succede qua, dove invece per esempio, o in chiesa, dove le pareti o sono molto molto grandi, pensate agli palazzetti dello sport, dove il concetto, avete mai sentito un concetto all'interno di un palazzetti dello sport? Tutto è un rumore, un rimbombo incredibile, insomma il concetto è questo, più asciughiamo le pareti, più le rendiamo e meglio è. Ci potrebbe essere, sì vabbè ma io che faccio? Vado a cambiare le sorti della mia stanza di sala incisione? Beh sì, se avete uno studio per esempio, potreste pensare a sonorizzarlo, a creare delle trappole sonore, a volte si usa la tecnica dell'armadio, l'armadio è un posto bellissimo per fare... Ci sono degli stradamagemmi, per esempio negli studio incisione, avete mai visto dietro al microfono, quelle paratie, adesso vi facciamo vedere qualche immaginetta, magari così, delle paratie fatte con dei bugnati, che vanno a evitare che il suono si diffonda all'interno della sala. In quelle sale si usano tappeti ad esempio? Pensate agli studio incisione, ci sono appunto molte trappole sonore e proprio per questo motivo qua, quindi se avete uno studio dove fate video come questi, magari lo potete trattare in maniera oculata. La domanda potrebbe sorgere spontanea, perché non l'hai fatto anche te qui dentro? Beh, il motivo è semplice, perché questa è una sala pose, non è uno studio televisivo, non è comunque così importante e poi perché magari ci avvaliamo anche un po' di stradamagemmi in post-produzione che vi faremo vedere fra poco. Passerei all'ultimo degli aspetti per poi passare a vedere invece la parte di post-produzione. L'ultimo degli aspetti è proprio il protagonista del nostro discorso, cioè il microfono. Ogni microfono ha delle caratteristiche peculiari. Questo che stiamo utilizzando è un microfono direttivo, quindi praticamente è adatto per prendere una direzione con un angolo molto ristretto e molto lungo. Io potrei essere in una situazione tale dove preferisco avere più un suono panoramico. Certo, per esempio una riunione. Una riunione dove sono costretto a spostare continuamente il microfono su chi parla. Il cantante usa un microfono in tipo dinamico che deve poggiare vicino le labbra. Quindi tu stai però dicendo delle cose, stai unendo più aspetti. La prima è la direzione, quindi il raggio d'azione del microfono. La seconda è il tipo di capsula del microfono. È il tipo di capsula, perché pure con lì esistono microfoni di tipo dinamico o microfoni di tipo condensatore. La differenza, lo dice la parola, dinamico prende tutto ciò che è molto forte e molto ravvicinato. Quindi è una capsula che è in grado di recepire colpi e restituirli al meglio. Piuttosto che però è meno azzeccato nel momento in cui vogliamo delle sibillanti oppure vogliamo sentire gli uccellini. No, lui assolutamente non riesce a sentire. Se per esempio dobbiamo riprendere un coro o anche uno strumento musicale, allora è preferibile utilizzare un condensatore. Che è un microfono con una membrana molto più sensibile, capace di prendere tutte le sfumature e però non è adatto per esempio se devo prendere un sonno di un rullante, perché sarebbe incapace di bloccare tutto quello che gli sta intorno al rullante. Insomma, e senza dilungarci troppo perché bisognerebbe fare un corso di fonia qui, il concetto è, e torniamo al mondo del videomaking, sicuramente i due microfoni che dentro uno zaino ci devono stare sono un microfono direzionale, shotgun, non necessariamente a questo livello ma comunque un fucile, pensiamo ai classici Rode, insomma, o una cosa del genere, che posizioniamo sulla camera perché chiaramente chi stiamo riprendendo è il soggetto e quindi con un microfono cerchiamo di catturare ciò che è davanti a noi, quindi il concetto direzione a direzione, vi ricordate? E contemporaneamente possiamo pensare di mettere nello zaino delle capsule lavalier che sono capaci di essere posizionati, cioè intanto che le possiamo posizionare molto vicine, concetto distanza, molto vicine alla nostra voce, ok? E capaci di prendere un raggio d'azione limitato. E quindi sono già direttive di per sé? Direttive e limitate, cioè da un punto di vista, hanno proprio la capacità di prendere quello che gli sta intorno e non proprio quello che gli sta lontanissimo. Detto questo, non andrei oltre perché altrimenti diventa un dibattito sull'audio e non è questo il senso, ci interessava però darvi dei consigli utili su quella che è la cattura del suono. Da oggi in poi, vi ricorderete, mi devo avvicinare il più possibile, mi devo dotare di una capsula direzionale, quindi scelgo il microfono più adatto, devo asciugare il più possibile l'ambiente, il che non significa che dovete mettervi lì a costruire le pareti, no, ma se dovete fare un'intervista tenete anche in considerazione la stanza in cui la fate, non tenete in considerazione la stanza solo per la luce o per il gusto estetico, ma anche per l'audio. Cercare un giusto compromesso, insomma. Non a caso, noi quando, per esempio io faccio diversi documentari, quando si sceglie l'audio da dove andare a fare le riprese, si tiene in considerazione ma sta stanza è giusta o non è giusta per l'audio anche, a volte si è rinunciato a una stanza più bella rispetto a una più brutta proprio per i concetti di audio, quindi questa cosa qui e quindi la capsula, l'abbiamo detto, insomma, questi sono gli elementi che dovete tenere bene a mente. Fatto salvo tutto questo e dato per assunto che avete fatto il massimo, come in teoria noi abbiamo fatto oggi il massimo, ci ritroviamo con questo audio qui che come sentite è ambientale, è molto riverberato per le cose appena dette, malgrado siamo in un concetto di microfono posizionato bene, microfono giusto e tutto. Quindi come facciamo a risolverlo? Andiamo a vederlo. Allora ragazzi, eccoci qui, questa è la nostra timeline e come vedete qui c'è tutto quello che è la prefazione che abbiamo appena fatto. Andiamo a vedere come ottimizzare il suono e come l'abbiamo ottimizzato al fine proprio di ottenere un suono migliore. Quindi andiamo a selezionare proprio la traccia e come vi dicevo lo facciamo sia per Final Cut che per Da Vinci. Su Final Cut è molto molto semplice. Abbiamo semplicemente la possibilità di selezionare la traccia. vedete che ogni traccia audio ha comunque un piccolo riquadro dove vengono esposte quelle che sono le tracce audio che compongono appunto la clip. Qui abbiamo solo diciamo l'insieme e qui abbiamo da che cosa è composto l'audio. Possiamo tranquillamente disabilitare le due tracce sapete che la S5 è riprendere con quattro tracce e direi visto che è una traccia mono di disabilitare anche uno dei due canali diciamo perché tanto sono praticamente lo stesso canale. Quindi prendiamo semplicemente una traccia ad esempio la traccia L la selezioniamo e come vedete qui è comparso questo Voice Isolation Voice Isolation non fa nient'altro che isolare il suono quindi da questo suono è nostra una svista ma questo video come ben avrete visto dal si passa a questo andiamo a isolare appunto il suono abbiamo un livello di intervento che si è impostato al 50% per default e darà questo risultato andiamo a sentire come vedete qui è stata ricalcolata la forma dell'onda proprio a livello visivo perché chiaramente cambia il suono il titolo del video stesso parlerà di audio di come catturarlo di come già così vi rendete conto quindi sentiamola di nuovo come utilizzarlo al meglio di come editarlo al meglio e vi facciamo subito sentire possiamo incrementare questo livello di isolamento della voce andiamo a sentire dire che questo è l'audio di questa sala 1 2 3 prova sentite siamo all'interno di uno studio di una sala ok questo è il suono trattato con una percentuale molto alta quando dosiamo il voice isolation dobbiamo stare molto in campana perché aumentare troppo questo livello può portarci ad avere addirittura dei tagli dei tagli di chiusura completamente sul suono e in questo caso quindi su questa ripresa di questo parroco andiamo a vedere dove dovessimo alzare al massimo la diciamo la soglia vedremo che il suono verrà tagliato ve lo facciamo sentire prima senza questo è il suono adesso lo andiamo a isolare sentite che alcune sillabe sono tagliate ecco perché perché la soglia chiaramente in questo caso è troppo elevata e quindi la voce del parroco in questo caso viene interpretata come un segnale di fondo cioè di rumore di fondo quindi dobbiamo calibrare il giusto livello di amount l'amount appunto del del filtro affinché escano esclusivamente la voce che vogliamo tenere in predominanza e non tutto il resto quindi su Final Cut diciamo il voice isolation è molto semplice da utilizzare abbiamo e aggiungiamo diciamo una piccola nota abbiamo anche loudness che è questa seconda funzione che era presente già nelle precedenti versioni di Final Cut e anzi apriamo e chiudiamo parentesi per avere questa funzionalità oltre ad avere l'ultima versione di Final Cut dobbiamo necessariamente essere aggiornati al sistema operativo avventura avventura io ho notato espressamente che se non ci mettiamo appunto sul sistema operativo aggiornato e siccome la funzione diciamo è una funzione che fa si appoggia sull'intelligenza artificiale sì come dicevamo e quindi non 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 viene tenuta in considerazione dal sistema malgrado il software lo stesso la versione del software lo stesso non viene praticamente assolutamente a comparire qui sulle voci possibili quindi questa è una nota molto importante mentre invece l'outness resisteva già da prima quindi possiamo tranquillamente con questa funzionalità tirar su il livello uniformare ciò che è basso verso l'alto e ciò che è l'alto verso il basso è una sorta di limiter compressore compressore direi compressore quindi possiamo decidere con quale efficacia e quale livello di uniformità tra alte e basse sentiamo come sentite adesso sono saliti anche i rumori di fondo quindi possiamo a questo punto aumentare il livello del voice isolation chiediamo la madonna e la mano sulla destra e ci sostegna con il suo aperto di manda e ci sorgerebano tutti il cammino della vita se adesso disabilitiamo tutto e ritorniamo a quello che era vi rendete conto di quello che fa così non si sente oltre a essere sparita la voce ma sentite solo praticamente ambiente è chiaro che questo è un audio catturato in pessima qualità vediamo qualche altro esempio magari un po' più di buona qualità mi sono sentita accolta da Massimo Lorella Francesca prendiamo questo e andiamo a ottimizzarlo in medesima modalità da questa famiglia così unita mi e Susanna abbiamo camminato fianco a fianco per tanti anni ma non l'ho mai vista così felice come da quando già lo come potete sentire è molto migliorato se adesso vado ad escludere i filtri come avete potuto notare si asciuga il suono vengono eliminati i rumori di fondo abbiamo per chiusura e per correttezza dobbiamo enunciare anche la rimozione del noise del rumore cioè del fruscio fondamentalmente e di quello che è i rumori elettrici quindi i ronzii ok che possono essere di tipo 50 Hz o 60 Hz o di un alternato quello che si vede si funzionano molto bene soprattutto questo devo dire che io lo uso spesso quando il cavo magari ha qualche ronzia o qualche cosa devo dire che funziona molto bene non è diciamo adesso non abbiamo esempi da farvi sentire ma a noi interessava in particolare farvi vedere come si può asciugare l'ambiente appunto come abbiamo visto con appunto la nuova funzionalità voice isolation stesse identiche clip in ambito DaVinci Resolve qui abbiamo diciamo due cose da dirvi in particolare e la prima è che intanto i filtri possono essere applicati a livello di traccia o a livello di clip di clip singola però abbiamo trovato un piccolo bug secondo me è un bug sì se vogliamo applicare a livello di clip i filtri e quindi selezionando appunto la traccia vedete che non compare nessun tipo di effetto che noi adesso vi faremo vedere non compare appunto l'isolamento della voce per fare questo lo possiamo fare invece andando a cliccare sulla traccia cioè se noi clicchiamo sulla traccia vedete che compaiono voice isolation e dialogue level cioè livello dell'audio del dialogo e voice isolation cioè isolamento del suono della voce questa cosa come diciamo può essere fatta anche a livello di traccia ma per far sì che questo avvenga bisogna fare un piccolo trucchetto bisogna adottare cioè quello di effettuare un taglio sulla clip anche minimo iniziale ad esempio facciamo vedere qui tagli praticamente la clip da questo momento in poi tutte le clip che vengono dopo selezionandole vi dà appunto i due parametri di cui abbiamo però stranamente la prima clip è legata al discorso precedente cioè bisogna abilitare tutta la traccia quindi questo secondo noi è un piccolo bug perché non riusciamo a trovare una logica in tutto questo qua per cui quindi vabbè sappiate sappiate che questo è un po' il da farsi cioè se volete però ecco la cosa importante è che si capisca che l'effetto può essere applicato o alla singola clip quindi c'è una sola clip che ha questo problema allora io vado a isolare il suono solo di quella clip per esempio magari c'è una persona che parla e solo in quel momento vado ad applicare il filtro che forse è la cosa più logica se invece lo voglio fare su tutta la traccia in maniera indistinta allora non andrò in questo modo ma cliccherò qui sul laterale diciamo su questa parte laterale della traccia e qui abbiamo appunto i due parametri in questo caso chiaramente se lo fate su tutta la traccia poi non potete più distinguere cioè non potete più cancellare questo effetto solo su una parte quindi lo sconsigliamo cioè se voi abilitate qui e qui chiaramente poi se volete da questo punto in poi disabilitarlo non lo potete fare anche se io vado a tagliare e clicco qui io posso abilitarlo disabilitarlo ma in realtà è già abilitato già inizialmente c'è comunque l'effetto quindi vi conviene comunque ragionare in maniera isolata questo è un po' il concetto e il tipo di parametro può essere applicato adesso riportiamo tutto a standard mode cioè quindi mettiamo tutto senza filtri e può essere applicato anche chiaramente in far light che è la parte chiaramente dedicata all'audio e avete qui la possibilità vedete in track effect avete la possibilità che può essere richiamata e se non la vedete la potete richiamare chiaramente a mezzo di questo flag che deve essere abilitato vedete track effect e quindi li vedete qui sopra ebbene qui potete cliccare praticamente sul simbolino qui al lato quindi l'accendete e poi cliccate qui e a questo punto vi compaiono addirittura due piccoli pannelli di gestione dell'effetto ok dove potete abilitarlo e regolarlo ma andiamo a vederlo nello specifico e soprattutto andiamo ad ascoltarlo tutto disabilitato quindi andiamo a vedere clicco sulla traccia piccola nota anche qui abbiamo due tracce identiche vi consiglio di toglierne una perché tanto è una traccia monofonica quindi togliendo una traccia non dovrete applicare l'effetto due volte ma lo applicherete solo su una delle due tracce è molto importante se non lo fate chiaramente dovete applicare lo stesso effetto su entrambe le tracce questo va bene solo se la traccia è monofonica chiaramente perché altrimenti quindi selezioniamo la traccia e andiamo ad applicare voice isolation e andiamo a sentire il risultato chiaramente anche qui abbiamo un parametro una soglia che andremo per il momento a mettere un 60% queste cose sono anche parte dei corsi di formazione e in particolare video recording è il corso in cui si parla anche di se lo togliamo audio all'interno di video recording ma anche oggi sentite c'è molto più ambiente di sala quindi possiamo chiaramente aumentare la soglia vedete che ogni volta che la applichiamo arriva al 100% quindi una volta che l'avete abilitata chiaramente vi conviene poi lasciarla andiamo a vedere quindi come prima questo controllo adesso è di tipo light però mi sembra che è possibile pure aprire il pannellino certo qui possiamo aprire il pannello abbiamo semplicemente il punto che abbiamo già visto prima in far light e a settare sì vediamo questo video in due blocchi fondamentali che sono la parte di acquisizione dell'audio e quindi capiamo dire che fa un lavoro eccezionale e dir poco cioè un po' di tempo fa era impensabile una cosa del genere quindi immaginate tutti quei contesti dove posso immaginare lavorare sull'equalizzatore ma era tra compressore e l'equalizzatore e l'equalizzatore dovevi lavorare su dei noise gate che comunque aprivano e chiudevano cioè una cosa questa è proprio l'intelligenza artificiale che riesce a captare quel suono e a tirar fuori solo quello che serve una cosa veramente interessante come metodi di lavoro e a proposito dell'equalizzazione chiaramente abbiamo la possibilità poi di elaborare il suono insomma come principi che regolano una buona riuscita del segnale in termini di cattura e poi la post-produzione che vedremo un po' più a fondo che è un come sentite tutta la post-produzione avviene non in maniera perfettamente istantanea ma c'è bisogno di un minimo di tempo perché il processore elabori quindi a tal proposito e laddove doveste aver raggiunto un buon compromesso se volete non avere questo tipo di processazione e di fastidio insomma di piccola attesa dovete eventualmente fare un rendering della traccia andate sul pannellino cliccate qui su questo questi tre puntini e fate bounce audio effect a quel punto il vostro mac il vostro computer farà praticamente il render e a quel punto la traccia in parte di queste cose perfettamente diciamo funzionante e in sincronica perfetta senza nessun tipo di problema caricare la cpu la cpu certamente e abbiamo visto quindi il voice isolation che possiamo applicare per farvelo sentire anche alle altre casistiche così come vi ho visto su final cut così vediamo qual è la differenza e la prima cosa che vi dico qui su da vinci resolve è possibile fare un tasto destro sulla traccia e andare a normalizzare l'audio level cioè l'audio level è importante normalizzarlo perché viene chiaramente visto che la traccia era molto bassa viene portata comunque a 0 dB a questo punto possiamo praticamente andare ad esercitare di nuovo il voice isolation proviamo a lasciarlo al 100% e ascoltiamo come sentite la soglia è troppo alta come abbiamo visto prima per final cut qui ancora di più quindi riduciamo ad esempio a un 50% 50-60% vi ripeto questa è una traccia registrata malissimo quindi lascia il tempo che trova proviamo ancora su qualche altro esempio via cognata proviamo qui no andiamo a applicare da due persone così escano due persone come mia moglie via cognata ecco questo è il caso proprio che ci ha fatto capire perfettamente che la soglia troppo alta tende addirittura a levare gli applausi sotto no quindi questo può essere giusto o sbagliato in questo contesto sarebbe sbagliato eh sì bisognerebbe trovare un giusto compromesso tra l'ambiente perché comunque l'ambiente è importante proviamo a farlo quindi riduciamo la soglia escano due persone come mia moglie via cognata vedete che il suono è asciugato ma contemporaneamente sono rimasti gli applausi quindi dobbiamo noi livellare questo livello al fine di far uscire solo quello che vogliamo isolare ok ma non si ferma qui da vinci abbiamo anche altri parametri che sono relegati a ci permettiamo su questa parte qui dove noi stavamo facendo proprio un livello tra alto e basso e qui abbiamo a un certo punto parlato in maniera più bassa come abbiamo visto prima e quindi possiamo andare a vedere questo secondo aspetto molto importante che è il dialog leveler cioè la possibilità di ridurre tutto quello che è eccessivamente alto ad un livello più basso con questo primo flag lo vediamo anche qui su questo selettore oppure alzare tutto quello che è troppo basso ok e rimuovere il fruscio di fondo e tralasciando questa ultima voce di menu che sono abbastanza ovvia le prime due invece sono molto importanti nel momento in cui appunto c'è una differenza di livello del suono quindi andiamo a vedere come si comporta l'abilitiamo isoliamo anche il suono e per vederlo direi di vederlo qui dove possiamo vedere anche la forma dell'onda quindi andiamo a vederlo all'opera eccolo qui allora partiamo quindi parliamo anche insieme per capire quindi vediamo un po' e poi se invece parlo piano vediamo se io parlo piano così vedere se funziona piuttosto che se parlo forte si è capito perfettamente lo possiamo vedere anche dal grafico vedete che la parte dove io parlo più piano viene alzata lo vediamo da questa qui azzurra è la voce mia perfettamente che stavo parlando e quella in grigio che vedete qui è l'intervento che viene fatto il suono è più basso quindi viene alzato il suono è più alto questa parte blu è più alta allora viene ridotto il suono cioè in sostanza la macchina automaticamente livella al fine di far uscire sempre lo stesso suono questo plugin chiaramente può essere sommato al voice isolation è logico quindi li mettiamo tutte e due e otteniamo quindi un livello costante nonché un asciugamento del suono della voce che chiaramente possiamo a proposito di output gain aumentare da questo ultima slider qui sotto output gain cioè il volume generale di tutta la traccia di tutto l'intervento che sta facendo sentiamo e poi se invece parlo piano vediamo se io parlo piano così vedere se funziona piuttosto che se parlo forte ma anche io posso parlare un pochino piano e poi posso parlare un po' forte ecco come vedete il suono rimane sempre costante e abbiamo un suono assolutamente asciutto insomma direi che ho scoperto a pieni voti a pieni voti questo filtro veramente mi ha rivegliato io non lo conoscevo sì perché e sentivo Simone molto entusiasta beh perché purtroppo ad oggi il problema era che tu potevi ottimizzare quanto volevi ma l'ambiente dei circostanti tant'è che da oggi in poi io che ti ho detto da oggi in poi in studio qui evitiamo di mettere la valiera perché da oggi in poi sopra la nostra testa ci sarà sempre non lo vedrete più così però non lo vedrete più così ma ci sarà sempre e l'audio sinceramente lo catturiamo così rimane fisso in questo modo in studio e non ci dobbiamo più preoccupare dell'ambiente della sala come sempre se hanno dei dubbi che devono fare? devono scriverci anche perché? perché 9 per 9? farà 81 e quindi come sempre rispondiamo alle vostre domande qualsiasi domanda vi viene in mente anche in merito alla tematica appena affrontata scrivetela sotto al video uno perché ci fa piacere rispondere alle vostre domande due perché ci fa piacere e se sarete fortunati la vostra domanda verrà estratta estratta dal nostro bidello filosofo e vincerete un bel premio settimanale sì sì lui che la legge è quello il premio non è che non si gioca troppo va bene ragazzi se vi è piaciuto il contenuto chiaramente iscrivetevi al nostro canale seguite i contenuti che io e il buon Stefano vi porteremo sempre in ambito chiaramente video per il momento è tutto ci vediamo al prossimo episodio sempre su Promirless ciao ciao ciao